Buongiorno a tutti, sono molto contento di poter introdurre queste giornate di studio dedicate a Enore Zaffiri e ci è sembrato, in collaborazione con il collega Stefano Bassanese del Conservatorio, ci è sembrato importante rendere un tributo a chi ha aperto e iniziato la didattica, l'esperienza della musica elettronica qui a Torino e appunto l'abbiamo fatto con grande piacere proprio quando in quest'ultimo anno, anno e mezzo, stiamo in qualche misura cercando di aprire un dialogo istituzionale o meglio rinsaldare un dialogo istituzionale tra conservatorio e università proprio sui temi della musica elettronica, della multimedialità. Queste due giornate sono organizzate appunto dalla Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Torino, dalla Facoltà di Scienze della Formazione, in particolare dal CIRMA, che è il centro interdipartimentale di ricerca sulla multimedialità e l'audiovisivo, di cui io faccio parte, fanno parte delle lezioni dottorali del dottorato in discipline artistiche della musica e dello spettacolo e sono sotto il, beh intanto ringraziamo anche, siamo ospiti del laboratorio multimediale Guido Quazza e sono sotto il patrocinio dell'Associazione di Informatica Musicale Italiana, noi tra l'altro, sia io che Stefano, facciamo parte del Consiglio Direttivo e appunto abbiamo chiesto che, come dire, ci fosse questo patrocinio e è stato ovviamente concesso molto volentieri. Tra l'altro l'AIMI aveva in qualche modo già tributato un riconoscimento ai pionieri della musica elettronica italiana al suo meeting biennale, che è il colloquio di informatica musicale, nel 2003, anno in cui c'era stato appunto un momento di confronto proprio sulle cosiddette scuole, quindi Padova con la Rampazzi, Torino con Enore Zaffiri e Firenze con Grossi. Queste due giornate includono due parti, una parte oggi pomeriggio, domani mattina, di colloquio, di dialogo e di anche approfondimento teorico appunto sull'opera di Enore Zaffiri e intorno all'opera, al contesto di quest'opera e domani pomeriggio invece ci sarà il concerto nel Salone del Conservatorio appunto in cui non soltanto parleremo di musica finalmente ma ci sarà anche della, la faremo questa musica. Per parte mia vi porto i saluti del preside della nostra facoltà che potete capire al momento, forse sapete, è molto complicata a livello istituzionale per cui ha avuto delle riunioni fissate da tempo esattamente in parallelo con le nostre giornate di studio, quindi si scusa di non poter essere qui. Vi porto anche i saluti da parte del direttore del CIRMA che è via in missione quindi non ha potuto partecipare e io vi porto i saluti del direttore del conservatorio, il maestro Maria Luisa Pacciani che in realtà aveva contemporaneamente un'audizione quindi per diciamo dei difetti di capacità di ubiquità. Non è presente. Ubiquità, sì. Bene. Io non ho molto altro da aggiungere alle parole di Andrea Valle, quindi non indugerei oltre, inizierei, aprire i lavori. Quindi cominciamo con Laura Zattra, come previsto da programma, che ci parlerà appunto di musica elettronica tra Torino, Firenze e Padova e quindi invito Laura a sedersi al tavolo. Grazie. 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 Uso questo microfono, mi sentite? Buonasera, buon pomeriggio. Io vengo dall'Università di Padova e ne approfitto per fare un po' di pubblicità a questa mostra che verrà aperta il 3 aprile che si intitola Le visioni del suono, musica elettronica all'Università di Padova e che sarà una mostra ospitata dai musei di Ateneo e che ripercorre le esperienze elettroniche di Padova da Teresa Rampazzi in particolare ai giorni nostri con una piccola escursione anche al 300 e al 700 in quanto Padova è stata importante fin dal 300 con Marchetto da Padova e i problemi di notazione e poi con Giuseppe Tartini ovviamente nel 700, quindi insomma è una grande mostra dedicata alla musica a Padova. Dunque inizio ringraziando davvero moltissimo Andrea Valle e Stefano Bassanese l'Università degli Studi di Torino e Conservatorio di Torino per l'invito e il maestro Enore Zaffiri perché finalmente dopo anni in cui mi occupavo di questi argomenti finalmente appunto ho potuto conoscere di persona e ringrazio tutti quanti perché questa mia presenza mi permette di approfondire alcuni aspetti della ricerca che sto portando avanti da un po' di tempo. Dunque il mio orizzonte di studi sono la storia, l'analisi, la filologia della musica elettronica in Italia e come vedete dal titolo oggi mi occuperò di musica elettronica e cercherò un po' di dipanare le analogie tra i centri di Torino, Firenze e Padova e vorrei subito precisare, correggo leggermente il titolo tra musica elettronica e musica elettroacustica in quanto preferisco questo termine perché da un po' di tempo insomma si è deciso di ampliare questo termine che può dare adito a delle interpretazioni un po' di parte quando si usa musica elettronica perché si va subito a pensare alla musica che si faceva allo studio di Colonia negli anni 50 mentre forse sarebbe più utile che tutti usassimo musica elettroacustica intendendo qualsiasi musica nella quale l'elettricità sia coinvolta per la registrazione e la produzione del suono all'infuori del semplice utilizzo per la registrazione con un microfono e al di fuori dell'amplificazione quindi con musica elettroacustica si intende dunque un utilizzo dell'elettricità per una serie di obiettivi tra cui la concezione, la realizzazione di idee, la creazione, la memorizzazione, la produzione, l'interpretazione, la distribuzione, la riproduzione, la percezione, la cognizione, la rappresentazione, l'analisi, la comprensione e la concettualizzazione del suono quindi con musica elettronica davvero si ingloba tutte queste correnti che si sono sviluppate nel corso del XX secolo e che continuano con il XXI secolo Allora, tre date importanti che ci danno già dei punti di partenza sulla trattazione di oggi e cioè le date di fondazione dei tre centri Iniziamo con Torino che è la città che ci ospita 1964 la fondazione dello SMET Firenze 1963 quindi sarebbe da mettere come primo lo studio S2FM di Pietro Grossi e 1965 a Padova il gruppo NPS nuove proposte sonore con Teresa Rampazzi Indicherei questo periodo che avete visto nella prima diapositiva come la fase pionieristica di seconda generazione della musica elettrocossica in Italia intendendo con prima generazione quella dello studio di fonologia di Milano Emerge fin da questa puntualizzazione un elemento comune che caratterizza i tre pionieri Zaffiri Grossi e Rampazzi ed è questa a differenza dell'organizzazione su base istituzionale dello studio di Milano con la possibilità quindi di usufruire non solo delle attrezzature ma anche delle risorse umane e della programmazione di un centro riconosciuto pubblicizzato e quindi pubblico Indicherò quindi con questa affermazione di seconda generazione il lavoro dei tre pionieri che è caratterizzato da un ripiegamento iniziale nella dimensione privata non riservata e confidenziale si va di bene quindi chiusa in se stessa quanto piuttosto vi è in questi tre centri un ripiegamento cosciente alla dimensione libera da costrizioni del fare artistico come invece si vedeva o poteva essere nel studio di Milano o nelle esperienze romane cito subito un passaggio di Albert quindi a dimensione privata di Albert Meyer del 2003 che affermò appunto all'interno del colloquio di informatica musicale che si tenne a Firenze nel 2003 e che fu un momento importante si intitolava Past and Future proprio perché all'inizio si è parlato molto dei pionieri italiani di musica elettroacustica Albert Meyer scrive nel 2003 As should be remembered all'inizio all'inizio degli anni Sessanta la musica elettronica era d'elite gli studi professionali oppure semi professionali avevano un equipaggiamento molto costoso e quindi difficile da trovare ed era e potevano permetterselo solamente le università o le istituzioni quindi appunto Milano o altre istituzioni grosse quindi l'accesso a questi hieratic places li chiama era difficile e questo è importante se non appartenevi alle chiese della musica contemporanea questo portò molti compositori se non eri tra i pochi eletti all'obbligo di crearsi una situazione propria e quindi a fare uno studio privato a assemblare uno studio privato facendo questo utilizzavano risorse finanziarie soprattutto molto spesso e questa è una caratteristica comune cercando qui e là le attrezzature che potevano loro servire quindi non erano non potevano acquistarle con i fondi molto grossi che avevano ad esempio la radio di Milano quanto piuttosto era un cercare di costruire il proprio studio e soprattutto di affiancarsi a delle persone che potevano cooperare con essi anche Ennio Chigio cofondatore nel 1965 del gruppo NPS nuove proposte sonore assieme a Teresa Rampazzi in un'intervista rilasciata qualche settimana fa mi ha confermato questo e cioè ci sentivamo in qualche modo fuori dai circoli dell'accademia dei conservatori ed eravamo spesso autodidatti in questo fare musica elettronica ma è proprio per questo che nacquero i nostri gruppi perché si coagulavano persone con le stesse affinità attorno ad un'idea attorno al desiderio di sovvertire i modi istituzionali di fare musica anche quella elettronica vediamo delinearsi dunque alcune delle analogie che caratterizzarono quelle che Francesco Giomi ha chiamato scuole storiche italiane di musica elettronica in Italia e qui vedete la citazione da dove è presa un articolo diventato ormai famoso che era contenuto in un volume musica e tecnologie domani erano degli atti di convegno dallo stesso titolo e definisce scuole storiche di musica italiana in contraposizione a questi poli storici della musica elettroacustica italiana cioè Milano e Roma l'articolo di Giomi è stato il primo a mia conoscenza almeno che abbia evidenziato con forza la presenza e la portata innovativa di queste realtà accostate insieme fino ad allora l'attività dei tre pionieri è rimasta relegata a circuiti musicali minori oppure più legati alla scena delle arti visive e anche questo è un elemento importante cioè la presenza delle arti visive ad esempio nel volume del 1972 di Armando Gentilucci sulla musica elettronica che ormai è un volume storico il primo in Italia dedicato completamente alla musica elettronica eravamo nel 1972 la presenza di Grossi e Zafiri è relegata a due paragrafi paragrafetti cioè pochissime righe accanto alla presenza di Gelmenti e il contributo di Grossi è definito applicazioni in genere molto acerbe eravamo nel 72 quindi pochi anni dopo la fondazione del centro al contrario è da sottolineare invece la presenza nel repertorio di Hugh Davis repertorio internazionale di musiche elettroacustiche vedete qui il titolo in basso che era un repertorio stilato nel 1967 per il GRM di Parigi commissionato dal GRM di Parigi che raccoglieva tutte le esperienze musicali elettroniche internazionali e in effetti anche in un volume inedito purtroppo dell'NPS non le proposte sonore si ritrova la lettera nella quale Hugh Davis chiedeva appunto a Teresa Rampazzi e ad Agno Chiggio alcune informazioni in più in modo da poter compilare questo repertorio e in questo repertorio finalmente compaiono con molti dettagli relativi ai vari brani Enore Zaffiri a pagina 111 Teresa Rampazzi con l'NPS a pagina 103 e 104 Pietro Grossi a pagina 100 e 101 quindi vediamo già alcune analogie emergere da queste prime notizie questa è l'immagine del repertorio di Hugh Davis relativo all'NPS di Padova la dimensione gestionale privata non afferente ad una struttura almeno inizialmente appunto istituzionalizzata l'autonomia rispetto alle chiese di Milano e Roma cioè alle realtà istituzionalizzate delle radio come la Rai di Milano o Colonia o Parigi o di centri afferenti ad istituzioni e a università come quelle statunitensi l'ingegnosità e destrezza nel costruirsi il proprio studio proprio a causa dell'isolamento forzato o reclamato rispetto ad altre istituzioni il coagularsi di personalità diverse con le stesse affinità intorno ad un'ideologia comune e infine ma non per ultima l'idea di gruppo dietro alla quale si cela l'idea anche di condivisione di questi obiettivi in cosa consiste allora l'originalità dei tre gruppi di Torino Firenze e Padova e sottolineo l'utilizzo del termine gruppi anziché centri di musica elettroacustica in cosa consiste la loro carica innovativa di luoghi alternativi come appunto vengono definiti da Francesco Giovi nell'articolo citato questi luoghi alternativi che tanto hanno influenzato sul piano teorico e metodologico le generazioni tutte le generazioni successive dei professionisti di musica elettronica italiani pur avendo mantenuto ma vedremo solo apparentemente una notorietà minore rispetto alle istituzioni maggiori è già stata nominata la didattica come elemento importantissimo cioè la cattedra di musica elettronica qui a Torino che sarà come vedremo un elemento importantissimo iniziamo con alcuni brevissimi cenni storici relativi ai tre pionieri e alle realtà da loro fondate sono veramente cenni brevissimi che ci danno l'idea di qual è stato il lavoro allora Enore Zaffiri che tutti conoscete ma rispolveriamo ha avuto alle spalle studi di composizione musica corale pianoforte questo è un elemento che accomuna i tre pionieri cioè gli studi musicali come background che li lega al conservatorio di Torino e a Parigi la docenza al conservatorio inizialmente di cultura musicale generale la fondazione dello studio di musica elettronica di Torino nel 1964 nel 1965 lo studio di informazione estetica che portava avanti una ricerca interdisciplinare sui fenomeni sonori e visivi interdisciplinare altro termine fondamentale nel 1968 la cattedra di musica elettronica che è tra le primissime cattedra di musica elettronica in Italia negli anni 70 gli studi con il sintetizzatore per esempio il lavoro con la cantante Ellen Kapper il lavoro sulla notazione sulle intavolature e il lavoro sui video sulla video art Pietro Grossi anche in questo caso il background musicale è molto forte era il primo violoncello nell'orchestra maggio musicale fiorentino negli anni 60 fonda questa associazione vita musicale contemporanea che promuove un'intensissima attività concertistica dedicata alle realtà musicali italiane ed estere anche con riferimento alla musica elettronica con i primi concerti completamente dedicati alla musica elettronica nel 1963 la fondazione dello studio S2FM nel 1965 la fondazione della prima cattedra in Italia di musica elettronica presso un conservatorio e dal 1967 in poi le sue esperienze con la computer music la musica telematica che veniva collegata da sedi molto lontane tra loro tramite telefono e poi la computer graphics e infine Teresa Rampazzi anch'essa con una formazione musicale alle spalle pianista ad avanguardia fino a 50 anni con il trio Bartók di Padova la partecipazione al circolo Pozzetto uno spazio interdisciplinare dove le arti visive ecco ancora una volta sono molto importanti la conoscenza con John Cage nel 1959 in un famoso concerto padovano che creò uno shock nella città addormentata e democristiana come era all'epoca e anche tuttora forse la presenza di Teresa Rampazzi negli anni 50 ai feriencursi di Darmstadt scusate il refuso Darmstadt durante i quali ascolta il primo generatore di Heimert e durante i quali viene fulminata dalla musica elettronica dal 65 al 72 con fondazione nel 1965 il gruppo nuove proposte sonore a Padova nel 1972 in ordine la terza cattedra di musica elettronica al conservatore di Padova e dal 1974 in poi da un grande impulso alla fondazione di quello che diventerà il centro di sonologia computazionale che inizia le attività già nel 1974 ma verrà istituzionalizzato ufficialmente nel 1979 ecco allora abbiamo ripercorso molto velocemente le biografie dei tre pionieri dicevamo le arti visive come background comune ed è una presenza molto importante quella delle arti visive che aiuta illumina l'impatto che hanno avuto questi tre centri e probabilmente giustifica anche il fatto che fossero considerati centri minori rispetto al famoso studio di fonologia di Milano proprio perché erano dei centri in cui l'interdisciplinarietà era all'ordine del giorno ed era voluta alcune date in ordine sparso che ci dimostrano la presenza delle arti visive la famosa mostra tra il 64 e il 65 a Firenze proposte strutturali plastiche e sonore che era una mostra itinerante dedicata all'arte programmatica italiana e con un catalogo importante di Lara Vincamasini nella quale la Vincamasini scrive che la mostra cito propone la verifica di una nuova interazione tra gli schemi di strutturazione plastica visuale e quelli di strutturazione auditiva in tema non di ipotetica integrazione tra le arti ma di interrelazione di ricerca nei diversi settori dell'operare artistico intellettuale ecco un'altra importante collaborazione sempre tra arti visive e musica e cioè la nota collaborazione tra Rigo Laura Totino e Enore Zaffiri e Sandro di Alexandris che fondarono appunto lo studio di informazione estetica che conduceva delle ricerche sulle interrelazioni tra la poesia visiva e la sonora le arti figurative e la musica elettronica ancora una volta arti visive molto importanti che segnano diciamo anche la direzione estetica dei gruppi 1968 il convegno internazionale dei centri sperimentali di musica elettronica proposto dal maggio musicale fiorentino un grande evento nel quale vennero riproposte delle dimostrazioni giornaliere con il calcolatore elettronico e un'esposizione di grafici e partiture allestite in collaborazione con il centro ricerche estetiche F1 di Firenze la sonorizzazione venne realizzata con opere di Vittorio Gelmetti e opere dell'S2FM di Pietro Grossi e dello SMET di Torino ma vediamo che appunto è data molta importanza all'aspetto grafico e delle partiture grafiche altra data importante la mostra del gruppo N a Padova del 1961 che influenzò Ennio Chigio e Teresa Rampazzi una mostra che appunto ebbe come scopo dimostrare la scrittura musicale l'evoluzione della scrittura musicale con la dimostrazione della presenza delle partiture grafiche vennero mostrate partiture grafiche di Earl Brown John Cage e moltissimi altri e in questa occasione era presente l'artista calderare amico di Zaffiri quindi vediamo che cominciavano appunto a crearsi questi contatti tra le tre città in questa occasione Chigio racconta di essere stato fulminato da queste partiture grafiche e di aver pensato lui che proveniva dal gruppo N gruppo N il famoso gruppo che portava avanti la ricerca cinetica visuale di aver pensato al collegamento che poteva essere molto fruttoso che poteva essere fatto tra la ricerca visiva e la ricerca sonora altra mostra nel maggio 1965 a Padova una mostra alla galleria N quindi ospitati dalla galleria del gruppo N in cui vennero presentate varie musiche tra cui musiche di Grossi e di Zaffiri che influenzarono molto gli stessi padovani gli stessi futuri fondatori del gruppo NPS in quanto venne proposta la famosa partitura di Zaffiri che dette adito a tutta una serie di riflessioni da parte del gruppo N che finirono in questo articolo dal titolo le proposte sonore dei pitagorici in cui appunto i futuri membri di lì a poco verrà fondato dell'NPS riflettevano sulla portata di questo tipo di riflessione grafica e sonora afferma Ennio Chigio che ciò che lo colpì era l'idea che si potesse far vedere la forma di un ritmo musicale cioè che potesse essere rappresentata in una partitura e il fatto che Zaffiri andasse nell'interpretazione di Chigio alla purezza dei segni ideale cioè che andava oltre superava alla presenza del pentagramma in una visione della nota molto più vicina al concetto di linea come effettivamente dovrebbe essere quindi la notazione viene stravolta non si tratta più di scrivere dei pentagrammi ma delle linee cioè delle linee che poi effettivamente saranno delle linee di suono ecco allora un importante elemento che lega i gruppi e cioè l'importanza data alla notazione sappiamo tutti che la notazione nella musica elettronica è un problema non ancora risolto e cioè che nel momento in cui si supera un linguaggio comunemente inteso che è quello della rappresentazione su pentagramma con le note le pause eccetera bisogna cioè non abbiamo più un linguaggio comune per cui bisogna un po' in qualche modo creare delle visualizzazioni delle notazioni alternative ecco allora che questo che vediamo era un esempio di notazione alternativa cioè di rappresentazione musicale sicuramente molto diversa dalla rappresentazione su pentagramma all'NPS proposero nel corso degli anni sperando che diventasse una standardizzazione di questa rappresentazione questo tipo di rappresentazione musicale che chiamavano audiogrammi e che sicuramente ricorda le rappresentazioni per esempio utilizzate da Stokhausen o da francoevangelisti nei quali in alto si vedevano appunto in orizzontale le frequenze le altezze scusate in verticale le altezze in orizzontale lo scorrere del tempo e poi in basso la rappresentazione delle ampiezze di decibel questo tipo di rappresentazione del gruppo nuove proposte sonore effettivamente ha dimostrato di essere abbastanza verosimile perché ha permesso ad Ennio Chigio e anche ad altre persone di ripetere di rieseguire questi brani al computer seguendo pari pari le varie istruzioni rappresentate in questo tipo di audiogramma mentre per Grossi e Zaffiri che venivano invece dall'arte generativa erano più gli algoritmi figurali anche come abbiamo visto che creano il senso del suono in un'ottica seriale anche molto spesso in Zaffiri come in Grossi c'è una sorta di ipercontrollo però attenzione molto spesso della casualità cioè un piacere nel controllare l'incontrollabile che può emergere anche dall'utilizzo del programma informatico come nel derapage delle automobili il piacere di fare derapage con le automobili è proprio quello di controllare l'incontrollabile quindi è una visione leggermente diversa rispetto al gruppo nuove proposte sonore che era partito in modo molto estremamente legato alla notazione si faceva ricerca di ogni fenomeno sonoro e lo si voleva portare fino alla fine una ricerca che poi ebbe degli esiti anche negativi perché era troppo strettamente legata alla freddezza della ricerca fine a se stessa e dette adito a dei litigi interni nel gruppo che poi nel 68 sfociarono nel secondo periodo del gruppo NPS molto più libero e molto più musicale e invece era appunto una dimensione già presente nella musica di Grossi e Zaffiri questa musicalità pur presente nell'ipercontrollo altra presenza visiva visuale dell'arte visuale in questo caso a Padova e cioè la ricerca cinetica ovviamente sviluppata dal gruppo N il gruppo N del quale facevano parte Alberto Biasi e Gnocchiggio Toni Cossa Edoardo Landi e Manfredo Massironi che appunto facevano ricerca sulla percezione visiva e in questo per esempio si cercava di capire come l'arte e la musica potessero stare insieme vi mostro un esempio di opera di N Gnocchiggio che cercherò di mettere in loop se possibile e che appunto dimostra come questi due pannelli questi vetri che avevano delle curve rappresentate su ognuno dei due pannelli con il movimento con lo spostamento a destra e a sinistra della persona dessero luogo ad una terza linea esattamente come avviene con il terzo suono di Tartini era questa la ricerca diciamo un tipico esempio di ricerca di unione tra ricerca cinetica e ricerca sonora che facevano a Padova un'opera come questa di quegli anni dava adito a discussioni all'interno del gruppo NPS e quindi all'unione della ricerca cinetica due curve se mi muovo me ne fanno apparire una terza come Tartini aveva dimostrato che suonando due suoni con il violino in certe condizioni mi fanno ascoltare mi fanno sentire un terzo suono che non è presente nell'esecuzione ma a livello percettivo emerge ecco questa è un'altra partitura del gruppo NPS che diciamo non ho dimostrato che derivasse da questo tipo di ricerca sul terzo suono di Tartini ma può comunque farci riflettere sul fatto che per esempio tutta la serie di oggetti sonori sviluppati a Padova sulla modulazione di frequenza ha sicuramente questa ricerca questo studio dei suoni che possono emergere da una portante da un modulante che modula la portante nei suoni nella tecnica per modulazione di frequenza quindi appunto l'idea di studiare la percezione visiva si riflette nella musica e infine per quanto riguarda le arti visive questa mostra all'Oz Polonia nel 1967 del gruppo N ovviamente sono un po' di parte quindi vi parlerò un po' più del gruppo N di Padova una mostra che metteva insieme le esperienze del gruppo N e del gruppo NPS e fu importante perché venne presentata con un testo scritto da Pietro Grossi ebbe cioè la benedizione di Pietro Grossi che consideravano come quasi loro padre spirituale musicale ecco allora abbiamo visto un elemento molto importante e cioè quello della presenza di più persone all'interno di questi gruppi cioè la presenza della collaborazione e della cooperazione si opera insieme per un obiettivo comune che è quello di fare musica che si ritrova nell'aspetto interdisciplinare arti visive più musica si ritrova nell'aspetto anche fisico di dover collaborare con strumentazioni analogiche nei primi tempi che richiedono la presenza di più persone che fanno funzionare più macchine contemporaneamente perché se faccio partire un oscillatore e devo registrare devo essere in due persone oppure se ci vuole un terzo che registra fa i mixaggi tagli i nazi eccetera quindi c'è bisogno anche fisico di compresenza di persone forzando un po' la mano mi piace azzardare l'ipotesi che i gruppi fondati da Grossi, Zafiri e Rampazzi andavano nella direzione di quello che Pierlevia ha chiamato nel 2002 intelligenza collettiva che adesso è normale notare soprattutto grazie alla presenza di internet e alle forme e alle forme di collaborazione anche nel campo delle arti ma che all'epoca era già molto presente cioè appunto la necessità di cooperare per un fine comune che è quello di appunto fare ricerca sul suono ad esempio a Padova Teresa Rampazzi era più brava con le frequenze cioè essendo musicista sentiva subito che cosa usare che esse gli oscillatori o i generatori eccetera funzionavano bene o male stavano bene o male dal punto di vista musicale mentre Chigio era più bravo ad azionare altri tipi di macchinari Serenella Marega era brava con i sintetizzatori e Memo Alfonso era bravo con il mixer cioè c'era questa sorta di divisione del lavoro però tutti con lo stesso obiettivo di creare musica quindi c'era diciamo questa comunicazione empatica sovragestuale finalizzata alla produzione musicale e come diciamo ultimi due punti vedete qui il creative common cioè si andava già verso il creative common perché perché lo si legge negli scritti di Grossi e anche negli scritti del gruppo NPS si voleva molto spesso andare oltre l'idea di autorialità proprio perché la musica elettroacustica cioè sia analogica che la musica informatica poteva essere una musica che andava verso il superamento del concetto di autore perché si poteva riciclare cioè nel momento in cui si crea si fissa su un supporto una un suono poi lo si può comunque riciclare e si può fare altra musica questo è un punto molto importante nella teorizzazione di Grossi e anche in quella del gruppo NPS e arriviamo addirittura all'idea di riciclo quindi o culture jamming cioè il prestito musicale senza il plagio perché perché si riutilizza non si copia quanto preesiste ma si ricicla in senso musicale addirittura ad esempio a Padova un gruppo di improvvisazione con i sintetizzatori e la tecnologia analogica formato da Teresa Rampazzi Michele Sambin Alvis Vidolin e Giovanni De Poli utilizzarono per un periodo dei materiali musicali di Pietro Grossi per eseguire altra musica nuova ci avviamo verso la conclusione allora dalle fonti studiate dalla storia di questi centri emerge come la presenza di Pietro Grossi sia molto forte nella diciamo nella teorizzazione di questi gruppi in quanto è come dire il padre spirituale di tutti Sibadi cioè era una necessità di questi tre pionieri di andare verso la musica elettroacustica ci arrivano tutti autonomamente ma la presenza di Grossi e soprattutto anche il fatto che avesse questa vetrina internazionale che era costituita dal festival di musica contemporanea li motiva e fa vedere come effettivamente fosse un obiettivo raggiungibile di fare musica in quel modo ecco perché ho scritto che da Grossi si passa a Zaffiri e a Teresa Rampazzi perché Grossi diciamo ha l'intuizione e raccoglie a Firenze anche molte esperienze e le presenta durante i concerti molte presenze di musica elettroacustica italiana internazionale Zaffiri in questo bel libro dedicato a Pietro Grossi sottolinea appunto l'importanza del suo incontro con il compositore fiorentino e conclude addirittura dicendo che nella vita qualche volta si ha la fortuna di fare degli incontri eccezionali perché proprio durante questi incontri con Pietro Grossi ha la sensazione di aver incontrato un artista dalla forte personalità e che può andare in quella direzione anche egli cioè nella direzione della ricerca musicale e infine l'importante anzi importantissimo punto della didattica e della diffusione cioè le analogie tra questi tra queste tre realtà sono molto forti quando si va ad indagare l'aspetto relativo alla pedagogia infatti Firenze Padova e Torino insieme a Roma sono state le prime classi sperimentali all'epoca di musica elettronica anzi come tradizione in Italia la classe sperimentale di musica elettronica è durata molto a lungo credo non so una ventina d'anni si chiamava ancora classe sperimentale di musica elettronica dopo vent'anni corso straordinario di musica elettronica esatto la prima cattedra fu aperta a Firenze come abbiamo visto la seconda a Torino e la quarta a Padova in mezzo c'è Roma perché c'è stato questo desiderio lungimirante di dare importanza alla didattica perché c'era questo dubbio cosciente di non riuscire a trovare un giusto mezzo tra la ricerca scientifica e l'arte e fece quindi questo dubbio emergere la necessità urgente di una collaborazione stretta tra tecnico musicista ingegnere e compositore che fosse in qualche modo spiegata agli allievi quindi in questi corsi di musica elettronica si coniugavano aspetti diversi tipici di tutte queste attività appunto di questa interdisciplinarietà che richiedeva competenze molto diverse altra presenza e diciamo idea molto forte che ebbero e vincente e geniale che ha ripercussioni tuttora è la creazione dei colloqui di informatica musicale sulla diciamo sull'onda dell'International Computer Music Conference che era stata creata pochi anni prima si crearono questi colloqui in cui si riunivano le personalità del settore della musica elettroacustica in Italia il primo colloquio che ancora non si chiamava colloquio di informatica musicale avvenne nel 76 a Pisa poi poco tempo dopo sempre nel 76 a Padova durante dei seminari di Villa Cordellina si incontrarono le stesse persone che si erano trovate a Pisa e decisero di chiamare retrospettivamente questo incontro del 1976 primo colloquio di informatica musicale e venne deciso in quell'occasione di creare questi colloqui che avrebbero avuto una scadenza regolare e che servivano per riunire appunto gli esperti del settore il secondo del 77 venne fatto a Milano organizzato da Goffredo House e nel 79 a Padova non solo quindi con la presenza di Teresa Rampazzi ma nel frattempo si erano aggiunti anche Giovanni Battista De Biasi Giovanni De Poli e Elvise Vito Ringraziano Tisato che saranno i fondatori del centro di sonologia computazionale quindi vediamo che i poli rimangono molto presenti e vanno tutti nella direzione della interdisciplinarietà finalizzata anche allo spiegare che cos'è questa interdisciplinarietà e quali sono le competenze richieste all'interno di questa attività interdisciplinare e infine ovviamente la fondazione dell'AIMI associazione italiana di musica informatica non ho mai capito se si chiama associazione italiana di musica informatica o associazione di informatica musicale italiana la seconda sì sì ma le I ci sono ugualmente quindi potrebbe stare anche associazione italiana di musica informatica e sempre in questi anni cioè nell'81 esatto a Venezia venne fondata l'associazione appunto come all'interno della quale vengono organizzati tuttora i colloqui di informatica musicale e che appunto deriva dalla lungimiranza verso l'importanza della pedagogia dei nostri tre pionieri quindi concludiamo abbiamo visto alcune analogie tra questi gruppi ovviamente le differenze dove stanno dopo che abbiamo fatto abbiamo tracciato tutte queste analogie nella musica che facevano poi ognuno ovviamente aveva un'estetica leggermente diversa rispetto agli altri quindi la dimensione privata del gruppo rispetto a queste grandi chiese come erano a Milano soprattutto e poi anche a Roma le varie associazioni di musica improvvisata e elettronica l'autonomia appunto rispetto alle chiese le arti visive come collante la notazione cioè questa riflessione attorno ad uno dei problemi fondamentali che stanno dietro alla musica elettroacustica sia essa analogica sia essa informatica e quindi il contributo agli studi musicologici di questo problema l'arte collaborativa cioè la presenza importante di più persone con lo stesso obiettivo che comunicano e hanno l'obiettivo di fare ricerca sonora la didattica e la diffusione come abbiamo visto e concludo dicendo non dimentichiamoci però dopo tutte queste parole di ascoltare la loro musica e in questa occasione devo ringraziare davvero il contributo che sta che sta dando la casa milanese di Schachtel alla diffusione della musica di questi pionieri con oltre a varia musica che pubblicano i bellissimi cofanetti e cd dedicati alla musica di Zaffiri Grossi Rampazzi e Gruppo NPS Gruppo NPS è quello uscito l'anno scorso quindi da molto poco per esempio quello dedicato ad Enno e Zaffiri è dedicato a musica per un anno che sarà un brano molto importante anche all'interno di queste due giornate vi ringrazio bene ringraziamo Laura Zaff chiamo allora Marco Spettinatto mentre si prepara volevo solo ricordare giusto l'accenno di Laura domani non ci sono problemi e dovrebbe venire Valentina Bertolani che collabora con la di Schachtel per presentare l'iniziativa che stanno mettendo che stanno allettendo di pubblicazioni di un cofanetto dedicato alle opere del maestro Giardini quindi speriamo che ci domanda e loro sul programma che intendano appunto predisporre questo cofanetto allora a questo punto lascio la parola a Marco Spettinatto Enno e Maria Zaffiri oltre mezzo secolo di esplorazione sonora tra rigore strutturalista e libera creatività bene ringrazio innanzitutto tutte le persone qui presenti per essere interessate all'opera del maestro Zaffiri l'obiettivo del mio intervento è quello di riassumere e sintetizzare i più di 50 anni di percorso artistico del maestro impresa non semplice visto il campo estremamente vasto e variegato vedremo entro cui si svolge la sua attività attività che abbraccia diversi settori dell'arte contemporanea sia in ambito musicale sia in quello visivo questa varietà si riscontra e si riflette anche nel fondo Smett Zaffiri dove sono conservate le sue opere tale fondo ha sede attualmente al conservatore Luigi Cherubini di Firenze e al suo interno vi troviamo una grande quantità di documenti e di supporti diversi possiamo analizzare alcuni esistono ad esempio più di 500 supporti audio di diverse tipologie nastri magnetici cassette DAT DVD musicali vinili circa sempre 500 supporti video fra cui delle videocassette Umatic Super VHS dei mini DV dei CD con delle opere video all'interno in più è presente anche una nutrita sezione di materiale cartaceo che comprende musiche fra le altre documenti le musiche manoscritte e in edizione privata progetti di opere audio video nonché le pubblicazioni editoriali di carattere teorico ma anche di carattere didattico il catalogo definitivo delle opere è in fase di realizzazione attualmente l'esperienza artistica di Zaffiri si può suddividere in diverse fasi per semplificare un po' la materia la prima fase riguarda l'adolescenza gli studi e le prime esperienze di composizione fino agli anni 50 Zaffiri nasce a Torino il 29 marzo del 1928 in un contesto difficile che è quello che precede la seconda guerra mondiale svolge le prime esperienze musicali all'età di 7 anni e si iscrive al conservatorio di pianoforte nel 1939 nel corso di pianoforte poco prima dello scopo della seconda guerra mondiale nonostante le difficoltà a cui va incontro riesce a svolgere le prime esperienze di arte visiva infatti la sua inclinazione al disegno lo porta un'esperienza di praticantato allo studio Aero Borghi che era un affermato studio di pubblicità che a quei tempi era attivo a Torino realizza anche le prime composizioni che definisce lo stesso autore musica dell'adolescenza e che vanno come periodo dal 1941 al 1944 al termine del conflitto riprende gli studi e si diploma prima in pianoforte nel 1949 e poi in musica corale e composizione nel 1953 dopo essersi diplomato si recca al conservatore di Parigi per un importante soggiorno studio sotto la guida di Tony O'Ben nel 1954 dove prende coscienza delle tendenze musicali compositive più seguite a livello europeo in quel periodo che vertono tutte sulle questioni dell'avanguardia storica sulle esperienze dell'avanguardia storica si ha quindi la prima fase creativa musicale di Zaffiri con la realizzazione di Sinfonietta del 1954 a ritorno in Italia ottiene al conservatore di Torino la cattedra di lettura della partitura nel 1954 e l'anno successivo di Teoria Solfeggio e dettato musicale nel 1955 nei primi dieci anni di attività come compositore realizza opere per strumenti acustici tradizionali utilizzando tecniche e stilemi tipici delle avanguardie della prima metà del Novecento nonché si assiste appunto anche all'utilizzo di una tonalità allargata e di alcuni aspetti della tecnica del contrapunto Zaffiri prende in questo periodo progressivamente coscienza della necessità di superare lo stile compositivo accademico e quindi dopo aver realizzato le variazioni dodecafoniche per violino clarinetto e clevicemma e lo chitarra nel 1964 che sentiremo anche domani nel concerto sente l'esigenza di andare oltre i dodici suoni della scala temperata e si mette quindi alla ricerca di strade innovative ha quindi inizio la seconda fase dell'attività artistica di Zaffiri che riguarda la prima musica elettronica in laboratorio e il periodo dello strutturalismo i punti di riferimento di queste prime esperienze di musica elettronica sono le ultime opere di Anton Webern dove assistiamo a un suono per lo più isolato circondato dal silenzio e la corrente strutturalista che a Torino prendeva piede nei primi anni 60 e che si rifaceva ai movimenti artistici del Bauhaus di Walter Gropius e del De Stille di Piet Mondrian grazie alla sua attività e alla sua affinità con le arti visive individua nella figura geometrica piana euclidea un valido principio coordinatore dei parametri sonori musicali totalmente estraneo alla tradizione compositiva di quel periodo siamo nel 63 il progetto grafico definisce nelle opere di Zaffiri lo spazio sonoro da esplorare e le regole dell'esplorazione che avviene al suo interno per mezzo di diversi percorsi come abbiamo visto anche prima nell'intervento di Laura Zatra percorsi strutturali seguiti dai singoli suoni questi percorsi potevano essere determinati sia da procedimenti matematici quindi per mutazioni o algoritmi ma anche da altre regole eventualmente definite dall'autore questo sistema garantisce all'autore comunque un certo grado di libertà sia nella scelta della figura geometrica di riferimento sia nelle regole di interpretazione del grafico e sia nelle regole che determinano i percorsi strutturali all'interno dello spazio sonoro di riferimento vengono realizzate diverse opere partendo da uno stesso progetto che vengono chiamate versioni e le singole opere possono essere prese come punto di partenza punto di riferimento anche per successive elaborazioni si nota qui una forte analogia con la polifonia tradizionale e soprattutto nell'applicazione di tecniche compositive quali l'esposizione emotivica di inversione retrogradazione oppure dei sistemi di elaborazione dei suoni come quello della diminuzione o dell'allargamento inoltre vi era la possibilità di sovrapporre più percorsi sonori e quindi ottenere questa sorta di polifonia la struttura generativa geometrica non viene compresa razionalmente all'ascolto ma determina comunque una sensazione di coesione e unità all'interno dell'opera il primo progetto di questo tipo è TR 54 del 64 di cui vengono realizzate diverse versioni quindi diverse opere partendo dallo stesso progetto la prima delle quali non è elettronica è realizzata con dei suoni appunto acustici percussivi con questa prima versione Zaffiri si reca appunto a Firenze dove avviene il primo incontro con Pietro Grossi un incontro importante per l'esperienza personale di Zaffiri in questo periodo vengono realizzate e organizzate anche una serie di conferenze concerto con delle introduzioni che fornivano una contestualizzazione e una giustificazione storica al fenomeno della musica elettronica la prima avvene al circolo musicale Toscanini di Torino il 10 dicembre del 64 Zaffiri si rende conto che i principi costruttivi delle prime opere elettroniche possono anche essere utilizzati per l'organizzazione strutturale di altre forme di espressione artistica e quindi dal 64 realizza delle opere visive oppure plastiche nate dagli stessi progetti geometrici strutturali dei lavori musicali ad esempio foto astratte sculture in metallo e in plexiglass il primo oggetto sonoro e oggetto visivo basati sullo stesso progetto è TRE 54 quarto quindi la quarta versione del progetto TRE 54 che viene realizzato nel 1965 grazie a nuove apparecchiature acquistate e anche autocostruite avviene la fondazione dello SMET lo studio di musica elettronica di Torino il 10 dicembre del 64 quasi un anno dopo viene fondato anche lo studio di informazione estetica altro importante studio qui a Torino il 12 gennaio del 66 con sede in corso Vittorio Emanuele II questo studio è stato fondato come abbiamo già sentito assieme all'operatore plastico visivo Sandro De Alexandris e all'autore di poesia fonetica e concreta Arrigolo Ratotino con cui Zaffieri condivideva gli stessi problemi nella realizzazione delle opere di natura linguistico organizzativa lo studio svolgeva attività di informazione sulle sperimentazioni contemporanee ma anche di realizzazione produzione e diffusione di opere originali basate sull'interazione di elementi visivi e sonori sia elettronici sia fonetici nel 66-67 prende avvio il primo corso sperimentale di musica elettronica vi partecipano nove allievi e si ha anche l'inizio dei lavori di gruppo quindi di Zaffieri e dei suoi allievi con il brano EL25 del primo anno questi progetti i primi progetti vengono raccolti assieme ai progetti dello studio di fonologia musicale di Firenze guidato da Grossi in un'edizione molto importante che si chiama Due scuole di musica elettronica in Italia edita da Silva Zaffieri si rende quindi conto del potenziale propedeutico della sua metodologia strutturalista e seguendo l'esempio di Grossi d'accordo con il direttore di allora Sandro Fuga del conservatore di Torino chiede e ottiene dal ministero della pubblica istruzione l'istituzione di un corso straordinario di musica elettronica al conservatorio di Torino quindi il secondo come abbiamo già sentito in Italia di questo tipo dopo quello fiorentino dopo la catedra fiorentina di Grossi questa diventa anche la seconda catedra per Zaffieri nello stesso anno si svolge il convegno internazionale dei centri sperimentali di musica elettronica in Firenze dal 9 al 14 giugno del 68 che è il primo di questo genere in Italia in tale occasione viene presentata l'opera musica per un anno originalmente chiamata 1968 in un'ora appunto dell'anno di realizzazione edita poi dal centro Duchamp di Bologna nel 1970 su quest'opera appunto verterà l'intervento poi del dottor Andrea Valle che ne ha realizzato una ricostruzione moderna si tratta di musica funzionale destinata alla sonorizzazione permanente di ambienti e a fronte di diversi mesi di lavoro del compositore vengono realizzate due ore di musica data la complessità e proprio la lunghezza delle fasi di realizzazione di queste prime opere un'altra opera interessante è il progetto Q81 del 68 realizzato in collaborazione col pittore strutturalista Antonio Calderara e poi pubblicato dalla Hofhaus Press di Düsseldorf nel 73 è un lavoro emblematico di questo periodo soprattutto per quanto riguarda l'interdisciplinarietà fra la musica e le arti visive nel 1969 si ha da parte degli allievi del corso l'abbandono del rigoroso metodo strutturalista a favore di un discorso musicale di ricerca più aperto e si giunge quindi alla fase successiva della creatività artistica di Zaffiri dominata dal sintetizzatore e dalla voce nel 1971 Zaffiri partecipa a un corso di computer music organizzato da Grossi al Cnuce di Pisa per tenersi aggiornato circa i nuovi sistemi di produzione musicale in laboratorio preferisce comunque dedicarsi al sintetizzatore che consentiva invece di realizzare la musica elettronica dal vivo quindi al di fuori delle esperienze di laboratorio il nuovo strumento però richiedeva una rinnovata libertà creativa data proprio le caratteristiche tipiche insomma dello strumento e quindi viene messa da parte la schematicità strutturale del periodo precedente i primi sintetizzatori utilizzati da Zaffiri sono VCS3 e Sintia della EMS di Londra nel 70 con cui vengono realizzate delle trascrizioni di musica classica sia per provare il nuovo strumento sia per dimostrarne in qualche modo la dignità la prima opera però originale realizzata tramite i sintetizzatori è Living Sinti numero 7 del 1970 di cui è anche presente una partitura questa partitura è importante e interessante perché si tratta della prima partitura destinata a eseguzioni del vivo per questo tipo di strumento Zaffiri preferisce parlare di intavolature anziché di partiture proprio perché sulla carta venivano fissate le operazioni manuali che dovevano essere eseguite sugli strumenti per garantire poi la riproducibilità dei brani dal vivo l'intento era proprio la realizzazione dal vivo di questi brani da 73 inizia l'importante collaborazione con la cantante Ellen Kappel dotata di spiccate capacità vocali ma anche teatrali e quindi si realizza l'interazione fra due strumenti che sono un po' le antipodi dell'esperienza musicale da una parte le sonorità vocali dall'altra quelle elettroacustiche si ha anche grazie appunto alle caratteristiche della cantante Ellen Kappel un utilizzo teatrale della voce che è simile a un rinnovato recitar cantando in queste opere l'accostamento testo e musica è quasi sempre di natura puramente emotiva le prime opere di questo tipo sono 5 paesaggi da Elliot realizzate nel 73 a cui seguono appunto altri brani come The Dark Lady Policromie Sonore Put Down e vi dicendo mi soffermo solo sul Cantico delle Creature realizzato da appunto l'opera di San Francesco d'Assisi nel 1980 per 6 voci sole che in particolare è interessante proprio perché è composto sullo schema strutturale di musica per un anno del 68 si assiste qui a un tentativo da parte di Zafiri di utilizzare la struttura geometrica andando oltre le esperienze con sonorità elettroniche le 6 voci sono realizzate tutte da Ellen Kappel per mezzo della tecnica della sovrapposizione delle parti sul nastro magnetico ci avviamo verso la fase successiva dell'opera di Zafiri che però cronologicamente è contemporanea a quella precedente io divise proprio per diciamo i contenuti e riguarda infatti il teatro totale diciamo sempre negli anni 70 in questo periodo Zafiri realizza quelle che chiama ricreazioni da camera da 72 all'80 si tratta di spettacoli con musica film recitazione e danza e sono opere che risentono anche del clima politico sociale del periodo siamo appunto subito dopo il 68 queste opere danno via una grande stagione di concerti abbastanza inusuale per l'epoca anche all'estero per tali opere nascono anche i primi film di Zafiri proiettati durante questi spettacoli di recreazione da camera su questa esperienza invece verterà l'intervento del professor Amaducci mi soffermo solo sul gioco dell'oca brevemente che è il primo di queste esperienze di film su un romanzo di Sanguinetti dell'opera del 72 che viene realizzato in collaborazione con gli allievi del conservatorio dopo questa collaborazione lo smet si scioglie a termine insomma la stagione dei lavori di gruppo con gli allievi rimane comunque il corso di musica elettronica al conservatorio di Torino Zafiri continua però le collaborazioni con Maurizio Chatelle e Lenkappel per le opere successive a partire dal 74 si formano spontaneamente fra gli allievi del corso alcuni gruppi di improvvisazione organizzata per strumenti acustici ed elettronici che porteranno poi nel 77 alla nascita del gruppo di improvvisazione della classe di musica elettronica del conservatorio di Torino questo è un gruppo importante perché si tratta di una delle prime esperienze di improvvisazioni dal vivo quindi vengono realizzati numerosi concerti con questo gruppo con i sintetizzatori utilizzando i sintetizzatori dal vivo nel periodo appunto successivo si manifesta una crisi musicale di Zafiri durante la quale però vengono realizzate le prime esperienze di video art siamo negli anni 80 nell'82 Zafiri abbandona l'insegnamento la cateda al conservatorio e continua il proprio percorso artistico in privato segue quindi un periodo di silenzio e di crisi vissuta proprio a causa del declino dei sintetizzatori che erano relegati erano stati relegati alla musica di consumo Zafiri infatti si chiede se l'esperienza della musica elettronica sia da considerarsi conclusa o se invece si debba tornare quindi a scrivere musica per strumenti tradizionali e alle prassi compositive delle avanguardie del novecento oppure se si possa continuare la sperimentazione elettronica sebbene in quel periodo sia il campionatore sia il computer non lasciassero ancora intravedere uno sbocco di rinnovata creatività intanto dal 1983 acquista una telecamera a colori professionale e inizia uno studio molto approfondito della storia dell'arte che porterà poi alla realizzazione dell'opera l'arte nella storia che è un'opera editoriale importante del 91 perché si tratta di una delle prime enciclopedie audiovisive sull'arte occidentale pubblicata in 52 videocassette dalla cooperativa Books and Video di Torino sono 100 argomenti che partono dalla Grecia antica e vanno fino alle esperienze artistiche del 45 la collaborazione con la Books and Video continua perché Zaffiri fornisce le sue attrezzature in video in cambio di spazi in cui lavorare e quindi grazie insomma a questa collaborazione Zaffiri ha la possibilità di realizzare delle trasposizioni in video delle composizioni per voce sintetizzatore degli anni 70 destinate alla musica originariamente alla musica dal vivo questo segna l'inizio delle esperienze di video art alcune di queste opere sono Cantico dei Cantici o The Dark Lady vengono realizzate anche dei documentari di spettacoli musicali e dei documentari di arte sempre in questo periodo dall'85 in avanti fra cui il documentario chiamato 20 anni di musica elettronica a Torino dove appunto viene presentata l'esperienza della musica elettronica dello SMET dei primi 20 anni di attività dello SMET vengono realizzati anche dei videodrammi in questo periodo e si passa quindi alla fase successiva dominata dal campionatore e dagli sviluppi di questa video art alla fine degli anni 80 infatti il campionatore unito alla telecamera permettono l'apertura verso una nuova stagione creativa di Zaffiri di qui in avanti il rapporto fra musica e video si fa sempre più stretto fino a rendere queste due realtà parti di un'unica esperienza e quindi difficilmente separabili a livello musicale dal 1988 avvengono le prime realizzazioni di opere con campionatore che vengono chiamate interpretazioni perché si tratta di vere e proprie interpretazioni di musiche pianistiche del passato specialmente del repertorio classico e romantico queste esperienze durano con il pianoforte campionato fino al 2003 però con altri strumenti quindi strumenti anche virtuali e con l'utilizzo del computer proseguiranno negli anni fino ai giorni d'oggi fino ai nostri giorni sempre per quanto riguarda la musica vengono anche realizzate delle opere originali in questo periodo utilizzate per la scena queste opere vengono improvvisate con strumenti campionati e registrate estemporaneamente su file midi tramite un sequencer si hanno quindi musiche per balletto tellus e strutture sonore entrabbe dell'88 e musiche di scena per la messa in scena del Faust di Goethe una messa in scena teatrale per queste opere vengono utilizzati suoni campionati corrispondenti a un'intera orchestra tradizionale di strumenti acustici assieme però anche a degli strumenti elettronici sempre campionati l'esperienza successiva viene definita musica della memoria da Zaffiri va come periodo dall'89 al 97 e riguarda una serie di opere nate da improvvisazioni con suoni campionati sempre registrate in tempo reale su dei file midi in cui sono presenti tracce di esperienze musicali con le quali Zaffiri è venuto a contatto durante gli anni riorganizzate però dal flusso della memoria durante appunto queste improvvisazioni le opere di questo tipo sono giochi in bianco e nero realizzate per pianoforte campionato da qui il titolo bianco e nero e musiche per strumenti acustici campionati che vengono realizzati dal 92 al 95 si tratta in questo caso di improvvisazioni con le quali vengono ripercorse con la memoria le forme musicali della seconda metà del 900 l'intento dell'autore è quello di colmare un vuoto nella propria esperienza compositiva per strumenti acustici tradizionali creatosi verificatosi dopo la scrittura delle variazioni dodecafoniche del 64 la tecnica utilizzata per la realizzazione di queste opere è quella della sovrapposizione di file MIDI cioè veniva realizzata prima la prima parte la parte struttura strumentale ritenuta più importante dal compositore a cui poi si sovrapponevano le altre sempre tutto questo sempre in tempo reale quindi la registrazione era estemporanea a livello video dall'89 si hanno delle esperienze definite dall'autore videopittura l'autore infatti realizza in formato superotto e con un obiettivo macro dei filmati che hanno per soggetto una realtà che tende all'astrazione sempre abbinati alla musica eseguita per mezzo di improvvisazioni libere col campionatore dal 93 l'astrazione venne accentuata l'astrazione di queste immagini per mezzo di applicazione di filtri analogici e sovrapposizioni la prima esperienza di questo tipo è Tellus dell'89 la fase successiva vede invece l'interazione fra campionatore e computer art quindi le prime opere di computer art e il ritorno anche allo strutturalismo degli anni 60 siamo nel 90 fino al 2000 a livello musicale dal 96 si è un'ulteriore spinta verso una creatività nuova grazie alla tecnica digitale appunto del computer unito al campionatore si hanno quindi le esperienze definite musica isoritmica del 96 e sono degli studi per i quali Zaffiri riprende la metodologia strutturalista degli anni 60 ampliandone però le possibilità evolutive per mezzo di inserti di cellule ritmiche e melodiche elementari che si riflettono saltuariamente fra le parti gli schemi ritmici di cui si parla appunto in musica isoritmica venivano registrati sotto forma di note midi e si aveva quindi anche la possibilità di utilizzarli in brani differenti o in differenti contesti all'interno dello stesso brano e anche con timbri differenti vengono quindi realizzate opere diverse con timbriche diverse ma con le stesse note musicali come base strutturale vengono prodotti diversi nuovi progetti grafico-geometrici fra cui TR27 che è una sorta di autocitazione delle esperienze degli anni 60 le riverberazioni sonore invece che vanno dal 96 al 98 sono una serie di variazioni sul progetto TR27 sempre con inserimento di schemi ritmici tratti da musica isoritmica e si tratta della prima serie di opere davvero compiute quindi non studi dopo il periodo di crisi questi brani pur nel loro rigore strutturale concedono un maggior spazio al colore timbrico e una varietà sonora più ampia rispetto ai lavori precedenti a livello video a metà degli anni 90 Zafira approda quindi alla computer art e si concentra sulla produzione di immagini astratte messe in movimento mediante elaborazioni software si ha quindi sovente uso della tecnica della sovrapposizione già utilizzata a partire dai filmati del gioco dell'oca del 73 dal 97 la metodologia strutturalista dei lavori degli anni 60 viene ripresa anche per coordinare suoni e immagini di queste opere di video art inoltre inoltre vengono realizzate e utilizzate come materiali di base dei propri video tutta una serie di immagini statiche che vengono poi animate via software che nascono da un tema di base sempre di carattere geometrico molto semplice elaborato poi in molteplici variazioni tramite dei filtri con il software Photoshop è importante notare come in queste esperienze le tecniche musicali polifoniche siano utilizzate appunto come spunto nella creazione di queste opere ad esempio per quanto riguarda le sovrapposizioni per quanto riguarda l'utilizzo di questi temi visivi come abbiamo visto o anche per quanto riguarda il moto delle immagini che vengono sovrapposte quindi il moto di un'immagine rispetto all'altra o alle altre questa sorta di pittura in movimento l'autore la definisce il quadro del 2000 è una visione in continua trasformazione che muta e si sviluppa nel tempo in contrasto con il quadro tradizionale che invece è statico e immutabile vengono realizzate quindi una serie di studi preparatori chiamati arcobaleni da cui poi l'autore ricava materiale per numerosi video seguenti quindi qui è anche presente l'idea di riutilizzo di opere o di studi precedenti per la realizzazione di opere successive compiute la prima opera infatti compiuta è il ciclo pennello elettronico si tratta di tre serie realizzate fra il 98 e il 2004 sempre per mezzo di Photoshop e anche del software Premiere per la rielaborazione e la messa in movimento di queste immagini possiamo vedere una parte di questo per avere un esempio di queste composizioni più recenti una parte di pennello elettronico se trovo il mouse si può spingere le luci? spegniamo le luci un attimo dunque devo solo recuperare di pennello elettronico Grazie a tutti. 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 Si porto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. di profondità. a tutti. 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 gli altri. a tutti. 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 . a tutti. 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 qui. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. qui. a tutti. 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 un'opera. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a tutti. a tutti. 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 . tutti. . tutti. tutti. . . . . ... . tutti. . 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